E' necessario che diamo voce alle persone che sono meno tutelate, soprattutto agli anziani, giovani. E' questo il senso della scelta di Giuseppe Corbatto di candidarsi a sindaco di grado per il centro-sinistra, funzionario comunale responsabile del settore tributi del municipio dell'isola. Corbatto è noto per la sua esperienza nel settore pubblico. Il suo ritorno in politica, 30 anni dopo la prima esperienza, sarà supportato dal PD e dalle liste civiche Scelgo Grado e Grado Futura. Noi abbiamo scelto uno slogan che è Scelgo Grado. Scelgo Grado per una duplice valenza. Innanzitutto chiaramente come metà turistica e poi anche, come le dicevo prima, come appartenenza a una comunità. Una comunità che deve trovare l'unità di intenti e deve diventare sempre più unita, coesa. Queste alcune priorità per l'isola del sole, un nuovo spazio per gli eventi, manutenzioni mirate e contrasto agli effetti del cambiamento climatico con azioni preventive. Dobbiamo avere una nuova arena per il Parco delle Rose, per poter permettere di fare determinati spettacoli e non utilizzare esclusivamente l'area retrostante, l'area retrostante del comune. Ultimamente le manutenzioni sono state un po' lasciate andare, quindi c'è la necessità di intervenire un po' su tutto il territorio, da Boscat alla zona della Colmata, Città Giardino, l'isola della Schiusa, il centro, Pineta, Valle Goppion, Fossalon. Il grado è una delle realtà regionali che con il cambiamento climatico sta avendo maggiori problemi sia dal punto di vista dell'inalzamento della marea che con le continue mareggiate che ci sono ogni anno. Ogni anno è necessario fare il ripascimento dell'area 1000. Bisogna fare qualcosa seriamente per mettere in sicurezza il Paese. Non è più possibile andare avanti così, aspettare che gli eventi avvengano e poi trovare le soluzioni.